il pick and roll con Basame rollata subito e si gioca uno contro uno Basame viene da distanza, vuole giocarsela contro Garry uno, due, tre, buono movimento di gancio destro buono Mastroianni, Mascolo arriva Basame di nuovo con il pick and roll viene spinto dentro oh bravo, bello zero ancora per Napoli vediamo il primo, va il primo due su due anche perché non si hanno bene i giocatori, c'è l'unico giocatore che se la gioca bene bravo, meno fino a questo momento non subito dentro il ritmo della partita due punti Basame e il segno carter lungo per Basame e due appoggiati Basame lancio lungo il tabellone che era la cosa più semplice da fare dopo che aveva Johnson si era mangiato tutto Basame bene servito da Carter Sorrentino attacca, attacca vorrebbe il passaggio dello scarico nessuno si muove passaggio immaginifico alla fine è quando si dice un buono schema esce fiero avanti Ricciola vorrebbe uno scarico Quaglio difende bene ma sta arrivando Carter dall'altra parte invece Basame contro Garry si sposta bene wow